Il virus continua a fare breccia in comune tra funzionari e amministratori. Dopo la Presidente del Consiglio Comunale, Katia Di Marzio, anche l'assessore Salvatore Zavarella è risultato positivo al Covid-19. A confermarlo è il diretto interessato che si trova in isolamento domiciliare e in buone condizioni. Da quanto si è appreso, Zavarella qualche giorno fa aveva perso l'olfatto, per cui subito si è attivato per sottoporsi al tampone a titolo cautelativo. Oggi è arrivato l'esito positivo del test. Personalmente sto bene, se non ci fosse stata questa avvisaglia, non mi sarei accorto di nulla, spiega l'assessore. Mi sono subito messo in contatto con il medico curante. Saranno ora presi in considerazione i contatti che ho avuto 48 ore prima dalla comparsa del sintomo, ma per contatto si intende una relazione che è avvenuta almeno nell'arco temporale dei 15 minuti. L'ufficio ASL si è messo quindi a lavoro per ricostruire la rete. L'arco temporale fortunatamente è breve, ma la sorveglianza attiva potrebbe scattare per quei soggetti entrati in contatto con Zavarella nelle ultime 48 ore. Per la giunta comunale non ci sarebbe alcun problema, visto che le sedute si svolgono da remoto, mentre il sindaco Anna Maria Casini si è messa in autosolamento per sottoporsi al tampone a titolo cautelativo. All'assessore intanto facciamo un augurio di pronta guarigione.